Ben ritrovati dalla redazione di Frones Multimedia in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna tra il bivio con planare Firenze Nord e il bivio A1 variante code a tratti per traffico intenso. L'uscita Firenze Sud provenendo da Roma è chiusa per lavori e verrà riaperta domani 27 luglio alle ore 6. In A11 tra il bivio A11 raccordo a 12 e Pistoia code a tratti per traffico intenso in direzione Firenze. In FIPILI ci sono code per traffico intenso tra il bivio FIPILI di Ramazione Pisa e Ponte della Ovest. Nel raccordo autostradale Siena Firenze in direzione Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Donato e Tabarnelle e tra San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze in Pruneta. A Firenze in via dei Serragli per un intervento con piattaforma aerea lunedì 27 luglio in orario 7.19 la strada sarà chiusa da via del Campuccio a via Santa Maria. Muoversi in Toscana un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!